Musica Venerdì 29 dicembre e ben ritrovati con la nostra informazione. Tragedia questa mattina sulla strada statale 385 in territorio di Lentini a perdere la vita in uno scondro fra un'auto e una moto un 25enne di Militello in Val di Catania. Si tratta di Cammelo in Bellizzeri che era alla guida del mezzo a due ruote. Vediamo. Ancora sangue sulle strade siciliane per l'ennesimo incidente stradale in cui ha perso la vita un 25enne di Militello di Val di Catania e Cammelo in Bellizzeri mentre un 38enne di Lentini è rimasto ferito ed è ricoverato in ospedale. Il sinistro si è registrato oggi nella tarda mattinata sulla strada statale 385 la Catania-Caltagerone a chilometro 4,900 a ridosso del bivio con la strada con sottile 4 in poche parole non distante da Palagonia ma in territorio di Lentini. Ascondrassi per causa in costo di accettamento due mezzi, un'auto, una Ford Focus con alla guida il 38enne ed una moto di grossa cilindrata condotta dal 25enne. Subito dopo il sinistro sono scattati i soccorsi su posti, carabinieri del comando stazione di Lentini e personale medico del 118 il quale non ha potuto far altro che accertare la morte del giovane sopraggiunto con molta probabilità sul colpo. Allertata per la circostanza anche l'eliambulanza che è atterrato in una zona non distante dall'incidente. A seguito del sinistro la statale 385 è rimasta chiusa a transito fino a quando non sono stati rimossi i veicoli incidentati e la strada è stata bonificata dalla presenza di detriti e oli. Infatti solo verso le 18 la circolazione sulla statale è stata ripristinata come comunicato dal personale dell'ANAS. Si sente male mentre è alla guida, perde il controllo del mezzo e finisce contro la vetrata di un negozio. E' quando accaduto questa mattina a Biancavilla. Sentiamo. Ha accusato un malore mentre era alla guida di un'auto finendo contro la vetrata di un negozio sfondandola. È accaduto questa mattina a Biancavilla. Un uomo di 75 anni di Adrano mentre era alla guida di una Peugeot 206 e che proseguiva in direzione Adrano all'inizio del viale dei fiori ha accusato un malore improvviso che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo facendogli invadere dapprima la corsia opposta per poi salire sul marciapiedi finendo contro la vetrata di un negozio dopo aver abbattuto quattro paletti di protezione. Per fortuna nessun altro è rimasto coinvolto nell'incidente. Allertati i soccorsi poco dopo sul posto è giunta un'ambulanza del 118 con il personale sanitario che ha provveduto a trasportare l'uomo al pronto soccorso del locale ospedale. Durante le operazioni di soccorso il 75enne era vigile e parlava con i medici. Ad arrivare sul posto dell'incidente gli agenti della polizia locale di Biancavilla e una pattuglia della polizia di stato del commissariato di Adrano. Dopo i rilievi del caso il mezzo è stato rimosso con non poche difficoltà visto che uno dei paletti di protezione dell'esercizio commerciale che è stato abbattuto dall'auto era rimasto incastrato sotto il mezzo. La viabilità sulla trafficatissima arteria ha subito pesanti rallentamenti. Un altro pauroso incidente stradale si è verificato la notte scorsa invece in via Cappuccini ad Adrano. A scontrarsi in questo caso sono state due automobili, una Fiat 500 ed una Fiat Idea. Per fortuna nessuno degli occupanti è rimasto ferito. A subire pesanti danni sono stati due mezzi che sono stati rimossi con i carattrezzi sul posto e intervenuta una volante della polizia di stato del locale commissariato. Controllo straordinario del territorio. Questa mattina paternato opera della Guardia di Finanza della locale Compagnia. Diverse pattuglie hanno presidiato Piazza Regina Margherita. I militari infatti hanno sottoposto a controllo diverse persone e altrettanti mezzi riscontrando anche delle irregolarità per violazione a codice della strada. Durante le operazioni di controllo ad essere presente anche il comandante della compagnia capitano Nicolo Prosperi. I risultati dell'attività saranno resi noti con ogni probabilità nelle prossime ore dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania. Circa 600 chili di pescato non tracciato è stato sequestrato dalla Guardia Costiera a Catania e provincia. Buona parte del pesce è stato donato ad alcuni endi caritatevoli. Vediamo. Continua l'attività di vigilanza e controllo sulla filiera della pesca a cura della Guardia Costiera a tutela dei cittadini e a difesa degli operatori del settore. Un'attività coordinata dal Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima della Sicilia Orientale ha portato nelle scorse ore al sequestro dei complessivi 570 chili di prodotti ittici di varie specie di cui circa 200 chili di tonno rosso e esattamente 5 esemplari per mancata tracciabilità e non etichettatura del pescato. Gli ispettori della Capitaneria di Porto della Guardia Costiera di Catania, Riposto e Acerreale hanno eseguito i controlli con particolare attenzione rivolta all'indotto commerciale nei mercati ittici e presso gli esercendi rivenditori al dettaglio nei comuni di Zafferano e Tennea di Catania e Giardini Naxos elevando complessivamente 5 sanzioni amministrative per la violazione sulla normativa della pesca e per la conservazione dei prodotti ittici per un'ammondare di circa 7.000 euro. A seguito di un accettamento sanitario da parte dei medici veterinari dell'azienda sanitaria provinciale Tennea una parte del prodotto ittico sequestrato è stato donato per la distribuzione alle associazioni caritatevole e di beneficenza. A Paternò si allungano i tempi di consegna per le tombe di famiglie in costruzione per via dell'ennesima proroga concessa dal comune alla ditta che sta eseguendo i lavori. Sentiamo i dettagli in questo servizio. Si allungano a Paternò i tempi di consegna agli aventi diritto delle 310 tombe in corso di realizzazione all'interno del cimitero di via Balatelle. Tombe che dovevano essere consegnate agli acquirenti, come aveva detto il primo cittadino Nino Naso ai nostri microfoni qualche mese dietro, entro la fine dell'anno in corso. Tutto ciò per il momento non sarà possibile visto che il comune di Paternò facendo riferimento ad una nota aggiunta agli uffici comunali lo scorso 19 dicembre da parte della ditta che sta eseguendo i lavori ha concesso a quest'ultima un'attezza prorogo di altri 45 giorni per completare i lavori e tutto è stato deciso con la determina numero 273 del 21 dicembre. Nel verbale di servizio del 19 dicembre redatto dall'azienda sono stati indicati i lavori a finire e stabilite le date di consegna in lotti funzionali e completi di terrazza con le seguenti scadenze terrazza A il 15 gennaio 2024, terrazza B il 31 gennaio 2024 e terrazza C e D il 16 febbraio sempre del 2024. Da permettere che i lavori si sarebbero dovuti concludere come da contratto lo scorso 24 agosto tuttavia con la determina numero 123 dello scorso 5 luglio il Comune aveva concesso alla ditta una prima proroga di 60 giorni naturali e consecutivi per i lavori fissando per il 23 ottobre scorso il termine di fine lavori. Una prima proroga quindi non sufficiente visto che con determina numero 225 del 16 novembre l'ente comunale ha concesso una seconda proroga di 45 giorni per i lavori fissando per il prossimo 2 gennaio del 2024 il termine di fine lavori. In ritardo della consegna delle tombe agli aventi diritto aveva provocato una decisa presa di posizione del Partito Democratico di Paternò lo scorso mese di ottobre quando in una nota aveva evidenziato che al circo il PD erano giunte delle segnalazioni da parte dei cittadini che avendo partecipato al bando indetto dal Comune nel 2017 per la costruzione delle 310 tombe di famiglia si sono ritrovati in questi lunghi anni di attesa a dover seppellire i loro cari altrove. Una vicenda che ha dell'incredibile scrivevano quelle del Partito Democratico se si pensa che ogni utente avvessato nel 2018 una somma di 7500 euro in un'unica soluzione senza poterne beneficiare ad oggi visto che le suddette tombe non sono ancora state consegnate agli interessati. Continueremo a monitorare la vicenda con estrema attenzione scrivevano ancora i democratici di Paternò invitando l'amministrazione ad essere altrettanto attente e responsabile affinché si proceda senza se e senza ma alla consegna delle tombe in tempi brevi ma fino adesso le tombe rimangono ancora lì senza essere state consegnate. Il primo giorno dell'anno ad Adrano sarà festeggiato alla grande animazione in strada durante la giornata e la sera fuochi d'attificio in piazza. Sentiamo. Adrano si appresta a festeggiare alla grande l'arrivo del nuovo anno lunedì 1 gennaio il primo giorno dell'anno infatti è prevista la parata ben arrivato 2024 la parata inserita nel programma di armonie natalizie si svolgerà tra le vie del centro storico intorno piazza Umberto per salutare il nuovo anno è prevista la partecipazione di bande musicali sbandieratori, maggiorette, giocolieri carretti siciliani addobbati con tema natalizio e animatori di strada per bambini saranno oltre 300 i figuranti a partecipare alla grande festa di Capodanno due sono le parate in programma per lunedì una alle ore 11 e l'altra alle ore 18 alle 21 poi ci saranno i fuochi d'artificio che illumineranno il cielo di Adrano lo spettacolo di luci e colori offrirà uno scenario per festeggiare l'arrivo del nuovo anno creando una atmosfera di gioia e condivisione dice il sindaco Fabio Mancuso con l'augurio aggiunge di un inizio di un nuovo anno pieno di speranze e opportunità e con quest'ultimo servizio si chiude questa edizione almeno restato il che è salutabile e appuntamento alle prossime una buona serata grazie a tutti Grazie a tutti.